Buongiorno, mi chiamo Primo Tiziano Compagnone e sono il presidente di Export Manager Uniti. Export Manager Uniti è un netto di professionisti con l'obiettivo di aiutare le piccole e medie imprese italiane ad esportarne nel mondo. Oggi volevo parlare di un qualcosa di ben specifico, cioè quello che possiamo fare di concreto a Londra nel settore design. A Londra disponiamo di uffici e personale commerciale e siamo introdotti in due canali ben specifici. Il canale Contract, quindi i nostri interlocutori sono gli studi dell'architettura e il contractor. E il canale Retail, dove ci rivolgiamo a negozi di arredamento e di design. Quindi se siete aziende che operate nel segmento di arredamento, illuminazione, materiale di rivestimento e affini e siete interessati ad entrare seriamente e in maniera concreta nel mercato di Londra, potete contattarmi per una collaborazione commerciale. Scrivetevi una mail all'indirizzo in Sombra e Pressione. Grazie dell'attenzione.